La luce più bella è quella che c'è in montagna la mattina e devo dire che l'ho scoperta portando fuori il cane. Da quando ci siamo sposati siamo venuti a vivere qui e non tornerai mai in città. Qui finisci il lavoro e ti rilassi e sei l'aria aperta. I figli penso che in ogni fase della vita ti insegnano qualcosa. Mi fa sorridere, mi mette allegria. Vedere le mie ragazze con i propri ragazzi. Mi è da piangere. Il pensiero viene dato dall'esperienza, viene dato da quello che vivi, viene da chi incontri la mattina viene dato da come fai il caffè. Non lo so, forse si ride troppo poco, mi dovrebbe ridere molto di più.